Carl, lo so che sei tu. Sì, certo, sennò tu non mi rispondi mai. Beh, che stai facendo? Hai ricevuto il mio sms, vero? Ci vediamo tutti stasera. No, non ti spieghi, per niente. Una cosa, quale cosa? Una cosa, secondo me non c'è scritto un accidente sulla tua agenda fasulla. Cose precise, tipo mettersi in fila in un negozio di video? Guarda che ti vedo, Carl, sono fuori del negozio di video. Tu dici? Tu dici? Però è il massimo, perché muove la bocca in sincrono con quello che dici tu. Si vede che non stai dicendo niente. Dai, vieni fuori. Lo so che non stai parlando. Carl! Dici, stai parlando. Grazie.